Musica 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 Dio scurità Diretmo da notte ostера Aiutaci Ad aprire il nostro cuore Soprattutto a Dio Che faccia luce nel nostro cuore che anche è pieno di sogno e della necessità. Dallo serenità, luce, perché possono intraprendere un cammino veramente migliore. Dio, onnipotente e misericordioso, tu propria chi ti ama e sempre e comunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero. Per l'intercessione di San Sebastiano, assisti per i figli che iniziano questo giro penitenziario e qui nei loro passi, nella tua volontà, perché protetti dalla tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce nella notte, possano concludere questa giornata secondo le intenzioni desiderate. Per Cristo, nostro Signore. Con l'aiuto del Signore, giungo felicemente al termine questo giro penitenziario che essi inizieremo nel suo nome. Amo. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Sebastiano, di benedita a Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, di modi e dei deputi. Dio, San Mastro. San Mastro. Siamo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti